Professore Alleva, la statistica ufficiale che ruolo ha o potrebbe avere nei nuovi paradigmi della conoscenza? Quella di riuscire a rispondere a delle nuove domande sfruttando le tante nuove fonti a disposizione e quindi dando un contributo con la qualità tipica della statistica ufficiale a questa domanda con nuove tecnologie e metodologie di riferimento.